È molto importante arrivare anche a vaccinare i più piccoli perché comunque ormai è chiaro e soprattutto per le nuove varianti rappresentano un serbatoio importante per l'infezione. Se si va nella direzione di poter un giorno auspicare all'immunità di gregge, l'auspicio crolla immediatamente se non hai la possibilità di vaccinare anche i bambini.